presentata l'odi la nuova cartella artistica in ricordo di un amico la cura da tempo l'associazione culturale monsignor luciano quartieri memoria del sacerdote ludigiano per anni direttore del museo d'arte sacra la cartella illustrata da zaira zuffetti contiene quest'anno le incisioni di quattro artisti italiani si tratta di elisabetta bevilacqua con l'opera intitolata homo sapiens di gianni favaro con natura recisa di vincenzo gatti con il laboratorio d'artiste di fulvio tommasi artefice di una ironica venga a prendere il caffè da noi alla presentazione della cartella artistica ha fatto seguito la riflessione a cuore aperto di tino cazzulani autentico appassionato del presempio lo ha aiutato nel suo intervento carla galletti che ha interpretato poesie racconti di autori contemporanei l'incontro a bpl arte di via polenghi lombardo occasione per visitare la biennale d'arte in mostra fino ai primi di gennaio si è chiuso con i ringraziamenti del sindaco simone oggetti per l'impegno profuso in queste settimane dall'associazione monsignor quartieri grazie grazie